Da quale console cominciare? Una bella domanda, ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Tra le domande più frequenti che ricevo c'è da quale console dovrei cominciare? E la risposta non è così semplice, soprattutto è veramente molto personale. Il consiglio che do a chi inizia deve scegliere il primo strumento è di partire da un software. Prendere confidenza con la musica, provare a cambiare da un brano all'altro. Inizialmente basta un computer e un software. Anche non necessariamente una scheda audio per sdoppiare il segnale. Partire da lì. Questo ovviamente è una cosa molto provvisoria perché ti prive di tanti elementi, anche la semplice ascolto in cuffia. Però prima di capire quale strumento è quello che fa per te inizierei a prendere confidenza con il passaggio da una canzone all'altra anche sul proprio semplice computer attraverso uno dei software gratuiti disponibili. Il più classico è Virtual DJ, ma ce ne sono tanti altri. Dopodiché si può scegliere, fondamentalmente sono due le strade una console oppure un controller per il computer stesso. Evito di fare un discorso da vecchio nostalgico se sei appassionato di dischi ti prendi un giradischi o meglio due altrimenti non ha senso iniziare oggi come si faceva 30 anni fa così come eviterei di prendermi un cdj 100 perché in quel caso mi devo masterizzare cd audio che sono cose che non usa più nessuno da nessuna parte e lo trovo un po' anacronistico. Certo, se ti trovassi ad utilizzare una console quasi gratis allora può essere un modo per cominciare però a meno che non tu faccia un genere specifico dove ci stanno bene i cd o dove magari è una cosa più da centro sociale tra virgolette in senso buono del termine eviterei di partire da qualcosa di così datato. Si può scegliere se da andare su un lettore compatto quindi da un Pioneer 350 o l'evoluzione, quella con il touchscreen che comunque è un investimento abbastanza importante perché si parte da un lettore da circa 600€ l'uno però ecco, con due lettori e un mixer qualsiasi già è un'ottima console di partenza. Comunque si può trovare anche qualcosa di usato essendo prodotti che girano già da alcuni anni. E questa è la strada numero uno partire da una piccola console compatta con i due lettori e il mixer. La strada numero due è con la console all-in-one che ce ne sono alcune di varie marche ecco, la Pioneer, la Numark insomma, sicuramente Pioneer dà un'affidabilità diversa e è sempre la... diciamo che si casca sempre in piedi con i prodotti Pioneer. Con una console compatta, magari con una sola chiavetta riesci già a prendere pratica ma soprattutto la puoi usare e la puoi anche trasportare molto facilmente. Su il discorso controller il panorama è veramente ampio dipende sia dal software utilizzato che dal tipo di macchina che si ha davanti. quindi ce ne sono della Pioneer ci sono quelli per il serato ce ne sono di tutte le varie marche e sinceramente una vale l'altra eviterei di cose troppo da bambini insomma, la Hercules base anche lì sarebbe come prendersi un CDJ100 però come uno qualsiasi DJ della Pioneer o una base Tractor che magari il software è un po' più complicato si può comunque iniziare e si può comunque avere delle proprie soddisfazioni si tratta sempre di un prodotto che è sì di livello base ma che comunque può utilizzare anche fuori e può utilizzare anche per molto tempo oppure lo step successivo è una console compatta all in one però di quelle più evolute come la XDJ della Pioneer o come la Prime 4 della Denon sono console molto avanzate con un bello schermo con la possibilità di utilizzare le canzoni dal computer o internamente con tutta una serie di funzioni e effetti che veramente sono dei prodotti di ottimo livello ovviamente se arriva lì se si ha già un po' preso confidenza con la musica e se si ha l'esigenza di andare in giro o di andare in posti di un certo tipo io eviterei di prendere degli strumenti troppo costosi poi non si sa neanche come utilizzarli ci arriverei per gradi sono queste le grandi strade o il controller o la console con i lettori piccoli o la console all in one poi ci sono i lettori grandi come il CDJ 2000 e tutte le varie evoluzioni che lì si parla di uno step ancora successivo non migliore della console all in one perché nel senso lì si tratta di gusti e di preferenze però sicuramente è un investimento molto diverso che ritengo necessario solo se si fa del DJ un utilizzo professionale sempre brutto quando ti trovi la mega console in casa e qualcuno non sa neanche accenderlo diciamo che risulta un po' patetico secondo la mia opinione del tutto personale per quanto riguarda le marche a livello iniziale sinceramente non ci sono grandi cose da sconsigliare sicuramente Pioneer Serato Tractor come software danno una certa garanzia che le altre marche non danno sul mixer si può variare un po' di più perché l'importante è che abbia tutte le funzioni di base insomma poi una marca migliore o peggiore la differenza la fa soprattutto il suono e anche quello diventa molto personale il prodotto di bassa qualità avrà più problemi ad avere un suono accettabile un suono di livello salendo con la marca e con il prezzo ovviamente si va su prodotti sicuramente con un suono più interessante però diventa un problema successivo avere un proprio suono un suono di un buon livello inizialmente può andar bene più o meno qualunque cosa ovviamente per stare in casa per quanto riguarda i lettori invece il problema è soprattutto sull'affidabilità sul leggere i brani sul leggerli rapidamente sul non bloccarsi e per questo di solito si tende ad andare soltanto sulle marche principali i lettori direi o Pioneer o Denon non vedo troppe altre soluzioni sui controller invece soprattutto dipende dal tipo di software che si vuole utilizzare o dal tipo di hardware e anche lì ci sono varie opzioni e più o meno si cade sempre in piedi fammi sapere anche se vuoi approfondire alcuni di questi argomenti in maniera più specifica e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi